Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village. Si è conclusa l'ottava edizione del progetto promosso dall'Automobile Club di Taramo, la sicurezza si fa strada, un'iniziativa in sinergia con le scuole della provincia per la formazione continua dei giovani sull'emergenza dei quasi mille incidenti stradali che avvengono ogni anno nel Terramano. Una giornata di festa per l'ACI di Taramo con autorità cittadine, forze dell'ordine, relatori illustri e la premiazione di 25 studenti, vincitori del concorso La Patente a punti. Una manifestazione gremita di studenti alla quale hanno partecipato tante autorità cittadine. Ha concluso il progetto promosso dall'ACI Teramo con il sostegno dell'ufficio scolastico provinciale della prefettura denominato la sicurezza si fa strada. L'iniziativa al suo ottavo anno di realizzazione ha coinvolto 25 classi per oltre 600 allunni delle scuole secondarie di primo grado del comune di Teramo Capoluogo e della provincia di Teramo. 25 gli allunni premiati, vincitori del concorso denominato La Patente a punti, che hanno ricevuto un casco omologato per moto di ultima generazione. Secondo i dati diffusi dall'Automobile Club di Teramo nel 2013, in provincia di Teramo, gli incidenti stradali sono stati 879, 393 dei quali su strade urbane, con 1.282 feriti. In molti casi ci sono state vittime, 18 i morti, un dato comunque in calo rispetto ai 27 morti del 2012. Anche a livello nazionale diminuiscono gli incidenti stradali, con una consistente riduzione del numero delle vittime, che nel 2013 ha permesso di risparmiare 368 vite umane, quasi il 10% in meno rispetto al 2012, con risultati rilevanti per alcune categorie di utenti vulnerabili, come i ciclisti, meno il 14%, e i motociclisti, meno il 14,5%. Complessivamente in Italia nel 2013 sono stati 181.227 i sinistri, che hanno causato 3.385 morti, è come se un paesino intero o un quartiere di una città morisse ogni anno. L'ACI di Teramo ritiene che l'emergenza sicurezza vada affrontata con un nuovo approccio alla formazione, mediante la realizzazione di percorsi formativi e informativi continui, che prevedano anche l'utilizzo di simulatori di guida per moto, necessari per formare una nuova generazione di motociclisti preparati e responsabili. Se tanti bambini, se tanti ragazzi si salvano sulle strade, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione dell'ACI di Teramo? Non solo dell'ACI di Teramo, diciamo che questo è un progetto dell'Automobile Club d'Italia. Poi ovviamente noi abbiamo elaborato dei progetti a livello locale, come quello che celebriamo oggi, la sicurezza si fa strada, abbinata al concorso appunti, la patente appunti, effettivamente è una manifestazione che ha avuto grandissimo successo, dobbiamo dire che è stata ripresa anche da tanti Automobile Club provinciali. Noi oramai è più di un decennio che curiamo questa manifestazione perché crediamo nell'educazione stradale, l'educazione stradale è sinergica alla sicurezza stradale, il fattore che le lega è l'incidentalità stradale. Noi siamo convinti che occorre intervenire sulla formazione culturale dei giovani e anche sulla formazione pratica perché oltre a questi interventi che facciamo nelle scuole abbiamo anche delle convenzioni con delle autoscuole per una formazione pratica più qualificata. Quindi cerchiamo di integrare una nuova formazione culturale con una migliore formazione pratica per far sì che almeno gli incidenti diminuiscono perché gli incidenti tra i giovani purtroppo rappresentano un aspetto drammatico per la nostra società. L'incidentalità stradale è dovuta a tantissimi fattori, noi non siamo convinti che questo succedersi sempre di nuove norme, sanzioni sempre più afflittive, possa essere elemento risolutore. Bisogna intervenire e far capire ai giovani che nel rapporto con una macchina ci sono tantissimi aspetti negativi di carattere psicologico che bisogna combattere e poi questi aspetti negativi come il narcisismo, l'amidizzazione del mezzo meccanico si vanno a coniugare magari con l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti diventano una miscela esplosiva che registriamo ogni giorno sui massimi di gravissimi incidenti che coinvolgono i nostri giovani. Noi diamo il nostro massimo contributo e impegno, noi investiamo più del 60% delle nostre risorse nell'educazione stradale, sempre con il fine almeno di salvare la vita di un giovane perché già avremo raggiunto un ottimo risultato. In media ogni giorno muoiono 9 persone per incidente stradale, 705 restano ferite. La distrazione è la prima causa di incidente, seguita dalla mancata osservanza della segnaletica e dalla velocità elevata. Tra i giovani 20-24 anni si conta il maggior numero di morti e feriti. Le forze dell'ordine, da questa settimana e per tutto il periodo estivo, serreranno i controlli su strada per chi guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Cosa consigli a questi giovani? Come si devono comportare quando stanno sulla strada? In maniera rispettosa delle regole e tra l'altro sarebbe sufficiente anche solo con il buonsenso perché sulla strada purtroppo accadono e continuano ad accadere incidenti stradali. Per evitarli bisogna rispettare le regole. Loro sono ancora pedoni, ancora ciclisti, tra poco prenderanno la patente per il ciclomotore. Quindi massima attenzione, prudenza e rispetto della segnaletica sulla strada. Proprio questa settimana scattano dei controlli più serrati sulle strade per chi beve e per chi si droga alla guida di motociclette e di auto. Come mai? Sì, stiamo per entrare nella stagione estiva e quindi come ogni anno intensifichiamo i controlli proprio sulla guida in stato di ebrezza e sul stato di alterazione da sostanze stupefacenti e comunque vengono svolti quotidianamente. In particolare Teramo è una tra le città italiane che sperimenterà una nuova strumentazione per l'accertamento dell'alterazione da droghe. Quindi si inizierà già da questo fine settimana e per tutta l'estate. Lo strumento è finalizzato a valutare il liquido biologico della saliva. Il weekend si conferma il periodo più a rischio di incidenti. Nelle notti di venerdì e sabato si concentra il 42% dei sinistri e delle vittime complessive delle ore notturne. È per questo problema che l'ACI di Teramo sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale nella quale l'ASL di Teramo svolge un ruolo di riferimento importantissimo. Cosa consiglia l'ASL di Teramo a questi ragazzi? L'ASL di Teramo è un punto di osservazione molto importante perché veniamo a arrivare questi ragazzi ai controlli per l'accertamento dell'idoneità alla guida. In questi anni noi abbiamo visto un progressivo, questo è il dato che vi posso dare anche pubblico, un progressivo riduzione dell'uso degli alcolici, ma in maniera improvvisa un rinnalzamento dell'uso degli stupefacenti. Cosa consigliamo? Di guardare a queste sostanze non con una possibilità di felicità, di miglioramento della vita, ma ad una pratica, ad un uso di sostanze chimiche che portano al disfacimento della vita, non solo del rischio di perdere la patente. L'incontro dell'ACI di Teramo con gli studenti è stato incentrato particolarmente sugli incidenti automobilistici che sono i più numerosi e i più pericolosi. La provincia di Teramo con una rete viaria piuttosto malandata risente molto di questa problematica. La rete viaria della provincia di Teramo è un po' malandata, come si può garantire la sicurezza? La sicurezza stradale sono tre elementi, l'auto, la persona e le strade. Quello che è un po' negativo in questi tre elementi sono le strade, ma non è che è negativo perché le amministrazioni non fanno il proprio dovere e perché mancano un po' di finanziamenti. Noi abbiamo visto soprattutto negli ultimi tempi, in queste calamità che abbiamo avuto nell'Abruzzo, che molte strade sono state interrotte oppure ristrette. È chiaro che ci vuole un finanziamento corposo, soprattutto per il lavoro che deve svolgere la provincia che nei limiti del possibile fa quello che può e naturalmente anche le amministrazioni comunali. È un problema soprattutto di programmazione politica però questo. Nei limiti del possibile diciamo che le strade sono quelle interne, però sulle altre, sulle grandi arterie, tutto sommato c'è una sicurezza. L'ACI di Teramo si è congedato dagli studenti teramani dando loro appuntamento alla prossima e alla nona edizione della manifestazione La sicurezza si fa strada ed ha augurato a tutti loro prudenza e buona vita. La presentazione di due nuovi primari al Mazzini di Teramo, Vincenzo Di Egidio a capo della radiologia e Francesco Taraschi dell'anestesia cardiopirurgica è stata l'occasione per il manager dell'Asla di Teramo, Roberto Fagnano, di fare un punto sui conti dell'azienda sanitaria teramana. Nonostante i tagli operati dalla regione Abruzzo sull'Asla di Teramo che si aggirano sui 2 milioni di euro, il direttore Fagnano ha annunciato per il 2014 un utile di esercizio e l'arrivo di altri 6 nuovi primari. La sanità la fanno gli uomini ed è per questo che bisogna puntare su figure professionali di alta qualità. E' questo in sintesi il pensiero del manager dell'Asla di Teramo, Roberto Fagnano, nel presentare due nuovi primari all'ospedale Mazzini, Vincenzo Di Egidio e Francesco Taraschi. Di Egidio diventa direttore della radiologia e Taraschi dell'anestesia e terapia intensiva post-operatoria cardiopirurgica, una ventata di innovazioni che mira, secondo i vertici dell'Asla, a rilanciare a livello nazionale di eccellenza il nosocomio teramano. I cambiamenti si possono fare in sanità solo con le persone, non sono cambiamenti i programmi, le carte e i tetti di spesa. Noi crediamo fortemente che se innestiamo energie ulteriori, energie anche più fresche, se vogliamo, insieme al rispetto delle professionalità interne, noi solo in questo modo riusciremo a cambiare la qualità delle prestazioni della sanità teramana. Vincenzo Di Egidio, specialista nel campo della neuroradiologia, ad oggi ha eseguito più di mille procedure tra embolizzazioni dei neurismi intracranici e trombolisi intraarteriosa in pazienti con ictus ischemico. Io sono sempre stato convinto che gli ospedali in Abruzzo dovrebbero essere un unico dipartimento, non dovrebbero avere ognuno a sé, ma dovrebbero interagire fra di loro, proprio per razionalizzare e migliorare anche quelle che sono le liste attese. Dicevo ai tuoi colleghi che il problema della mammografia è un problema falso, una lista attesa inopportuna, in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che una mammografia è fatta una ogni due anni, il resto dovrebbe entrare nei LEA, cioè nei programmi di screening il medico di base non dovrebbe prescrivere più la mammografia se non i controlli e già qui diamo una risoluzione a questo problema che la gente non sapeva come fare. Cioè noi dobbiamo collaborare col territorio, ma che significa collaborare con il territorio? Significa collaborare con i medici di base, significa fare un centro unico di prenotazione dove il medico di base viene coinvolto con un sistema telematico di telemedicina dove deve fare una proposta e il medico radiologo nella figura del primario deve valutare i codici di priorità. Cosa significa? I codici di priorità sono i codici dell'urgenza, che non possono aspettare, quindi è il primario che deve dare i tempi al suo reparto per poter stabilire quando devono aspettare e se mai dovessero aspettare, in che modo. E quindi facendo in questo modo si razionalizzerebbe quella che è la lista d'attesa con un centro unico di prenotazione che tenga conto dell'ospedale AB, quello di Teramo e l'ospedale Spocco, l'ospedale di Atri, Sant'Omero e Giulio Noa. Cosa significa che l'urgenza e l'emergenza vengono comunque assicurati qui, desaturando l'ospedale dai vari controlli, dall'ordinario e dagli esami radiologici diretti. Francesco Taraschi succede a Gianni Clementi, uno dei primi cardioanestesisti italiani che è stato primario all'ospedale di Teramo e fondatore della Cardioanestesia Teramana. Un nuovo primario e anche delle novità in anestesia. La novità è stata sempre il punto cardine del nostro reparto, perché il dottor Clementi, da cui abbiamo imparato tutti a lavorare, è stato il primo cardioanestesista, uno dei primi cardioanestesisti italiani. E lui ha avuto dalla sua l'illuminazione, diciamo così, di apportare sempre nuove tecniche, nuove sfide, di cui poi abbiamo fatto tesoro. Qual è la specialità del vostro reparto? La specialità del nostro reparto è quella di trattare malati che diventano anno dopo anno sempre più complessi, sempre più impegnati. Noi abbiamo fatto sempre del nostro reparto un centro di riferimento per quanto riguarda il monitoraggio emodinamico invasivo senza il quale questi malati non possono essere gestiti. Quindi con l'esperienza che abbiamo accumulato in questo settore, che cerchiamo anche di esportare in altre specialità, sicuramente ci sono altre cose da implementare, ma diciamo che fondamentalmente al momento attuale facciamo già abbastanza di tutto quello che ci sarebbe da fare. E non finisce qui. Il direttore Fagnano annuncia l'arrivo di almeno altri sei primari e non nasconde la soddisfazione di aver chiuso in attivo il bilancio dell'Asla di Teramo per il 2014, nonostante l'aver subito tagli per 2 milioni di euro e più, decisi dalla regione Abruzzo. E intanto nel 2014 l'Asla non solo non ha debiti, ma ha un utile di esercizio. Sì, con l'occasione presentiamo pure i dati di bilancio, che è stato recentemente completato, la sanità dell'Asla di Teramo, nonostante la riduzione dei ricavi, cioè dei fondi assegnati, ripeto, nonostante la riduzione dei ricavi, ha chiuso con un utile piccolo di circa 64 mila euro, ma comunque chiude inutile. Quindi non ha alcun problema di deficit o di disavanzo.